allora quindi jk rubicon omologata con pacchetto premium giusto il nostro bel pacchetto premium una ricetta facile facile per una macchina proprio alberto prendi sali e vai a spingere subito perché guarda poche cose pochi fronzoli ma insomma da andare poche cose ma giuste esatto quindi che cosa assetto al solito due pollici e mezzo con il suo ammortizzatore fox 2.0 performance intravedi la dei bei puntoni a casser fisso by rubicon express e ovviamente sull'anteriore abbiamo una bella barra panard della jk s regolabile con ovviamente il suo ammortizzatore di sterzi esattamente la quara combo qua esatto la combo che non sbagli mai il suo rilocatore della panard posteriore e soprattutto una ricetta un pochino un po diversa dal solito cerchio originale jeep da 18 con il suo distanziale in acciaio omologato e la ruota da 2 75 70 18 renegade radar rt plus che è una versione un pochino più fighetta della classica rt è una mescola ancora più più giusta e una bella una bella combo e soprattutto una macchina bella bella pulita semplice la usate tutti i giorni sabato e domenica bei radunetti dove c'è da spingere si spinge macchina ovviamente rubicon due blocchi chi vi ferma più divertitevi ragazzi la rimandiamo in toscana pronto a partire via